Ciao ragazzi siamo di nuovo qua, abbiamo finito l'altra volta, allora per questa puntata non dovevo gettare il sacchetto, però vabbè, allora dobbiamo fare questo qua, dove sta? Dove sta? Dove sta? Iron Furnace, no, l'ho sbagliato io, ah ah, dobbiamo fare quello ma Electronic Furnace, dobbiamo fare un Electronic Circuit, due Redstone e un Iron Furnace, allora io in teoria l'avrei già predisposto a tutto, sarebbe qua, eccolo qua, Electronic Circuit e un Iron Furnace, nel senso, solamente due Redstone e l'avamo fatto, allora, diamo questa qua, questo qua, questo qua, questo va su, e due a fare Electronic Furnace, tre abbiamo, e lo piazzchiamo qua, eccolo qua. Adesso, dovremo fare, fare o faremo lo faròmo lo, il padbox, che si fa, con R battery, legno e una copper tablet, allora, io dove, l'avevo già fatto tutto, allora, quanto qua, quanto qua, quanto qua, oh oh, allora, tre batterie, che dovrebbero essere, e lo qua, ehm, due e tre, una copper tablet, e l'altro, ehm, batbox, legno, ok, dovremmo anche trovare il legno, 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 dammi legno, 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 non cazzo di legno, che tempo, ehm, notte, dormiamo, e dopo, andiamo a prendere, legno, legno, tre abbiamo, se ho preso l'accetta, tu puoi armare la casa, tu puoi armare la casa, tu puoi armare la casa, tu anche, abbiamo l'accetta, che accettiamo tutti, oh, qua c'è altra gomma, questo legno bianco, non mi piacere più, legno bianco, abbiamo, adesso, abbiamo questo, ok, allora, le tre batterie, tablet, cipa-lipa, eccola qua, la nostra batbox, che andiamo a pezzicarla sopra il tetto, adesso, noi dovremmo fare anche, tre solar panel, che si fa con, qua il dust, usano qua il dust, carbone, maceratore, almeno, ok, bisogna fare prima il maceratore, allora, allora, ti, ti un cacchio, ti un cacchio, ah, no, vola, eh, ok, allora, maceratore, 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 il maceratore, si fa con cal, col salice, pietra, e una mashing block, che si fa con, vamo a raffinare l'olio da fare, allora, il salice ce l'abbiamo, qua no, qua no, qua no, qua no, qua no, e qua no, eh, si, ce l'abbiamo, giusti, giusti, tra, allora, vediamo un pochettino, non metterò più, maceratore, tracestali, c'è, ah, un box in block, raffinato, ah, hai bisogno raffinare il, il drain, ah, la 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 la, il faro, il faro, dovremmo lingotti di faro ok ok e raffiniamo questo quanto mi servono? 9 7 e 8 e aspettiamo tanto che se fanno metto in pausa e quando sarà fatto ci risentiremo eccoci qua avevo appena fatto il raffinand heirum cioè il faro raffinato adesso ci facciamo una machine block eccolo qua adesso per fare a fornare ci vuole tre di questi ok allora il pietriscodo vuole averlo me lo danno grazie e la filtra raffinata eccolo qua vediamo 14 da meglio poi mi serve elettroni circuit qui l'elettroni circuit giusto? sì sì l'elettroni circuit che abbiamo qua ok adesso possiamo fare il maceratore questo qua questo qua questo qua questo qua il salice giusto il salice giusto questo qua e abbiamo fatto un cazzo ok ah ci vuole anche eccolo qua maceratore l'abbiamo fatto il maceratore anche che lo piazzichiamo qua vicino a adesso possiamo macerare il carbone 32 dov'è? dov'è? aiuto acqua se facciamo poco del colenta se facciamo poco del colenta se facciamo poco del colenta dai maceratore meglio forza su eccolo qua il coal dust che mi serve allora maceratore non sono più solo panel no questo qua ci vuole un generatore 3 questi 3 vetro e 3 elettroni circuit bene do' fare 3 elettroni circuit allora io dovrei avere ancora qua non c'è 11 basta avanza poi quello quello per fare 3 circuit vedo proprio come si fa redstone raffiniron ok raffiniron redstone ce l'ho qua ok allora questo 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 ecco ok ok allora si fa così questo va così 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 no facciamo due allora due di questo e mi manca uno e mi manca uno beh beh solo uno ci facciamo solo uno so so farò altro di questi che mi serviranno allora mi serve il bronzo coppa coppa allora esco 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 usco 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 quale e farò coppa e se faccio così no cazzo scherzo no 16 bastano per il momento ok adesso ci facciamo un altro di questi un altro elettroni circuit dobbiamo fare anche un altro penso non sa mai se mi serve ancora questo va qua e questo va qua siamo tre dietro il circuit vai maceratore va benissimo ok adesso qui a me serve eh metto per il momento tre affari ok questo è ancora uno è questo mi serve generatore si fa una batteria vabbè dopo quella è la batteria quella è quella ok vabbè ci sentiamo dopo che eccoci qua ragazzi adesso ci faremo il solar panel che si fa con tre vetri tre recall bust due elettroni circuit e un generator ok ok ho tre dei questi tre dei questi si fa viceversa non mi ricordo ehm poi due elettroni circuit no questo è al contrario ora no no ah il generator lo devo fare ah si fa la batteria ed eccoci qua ragazzi stiamo facendo i generatori allora che si fa in questo modo qua abbiamo detto una batteria e tre raffin iron allora una batteria e tre raffin iron un altro generatore abbiamo bisogno un'altra batteria qua e tre generatori adesso allora per fare questo ci vuole tre tre e due affari allora uno due ne faccio solamente due però porca paletta vabbè allora vai e tre si no altra parte così e tre affari facciamo altri zack zack e zack facciamo però due sole al panel solo ci serve ancora due con questo non ci faccio niente no bene ok adesso ho messo il diamante non so cosa c'entrava vabbè lo stesso adesso ho messo arpe e fare e fare questi qua e fare questi qua ok ho messo due tre quattro cinque sei e ho messo ancora non ne devo fare tutti sì ehm fare tre cinque ci vuole anche questo che ce l'ho l'ho messo appena via sì no l'ho usato tutto bene e facciamo gli altri tutti intanto ho messo solo uno fare quello che devo fare e due a destra un electronic circuit ne ho messo un altro vedo ando a prendere ancora dove c'è un poca le gomme qua c'è un poca qua c'è un'altra poca qua non c'è niente qua non c'è niente qua non c'è niente no per un momento passo questo tra bian adesso in teoria bisogna cuocele e mi danno la raba cosa è questo? sola helmet come si fa? solo il panel quello faremo poi dopo nella prossima puntata faremo sola helmet aspettiamo un pochetto ancora due ancora uno ok questo va qua e questo va qua ok lo avevano bene intanto lo fa ancora uno solamente ok questo va qua questo va qua e il vetro solo uno porca paletta chissà se è stata la smutta per il vetro non abbiamo il vetro mi serve questo qua uno due tre ok thank you allora uno due tre e uno due tre no vincerezza ok e il terzo sono il panel adesso mi serve un'altra a fare ma ci vediamo la prossima volta per il completamento dell'impianto ciao ciao alla prossima